Benvenuto su Febbre da Gossip. Prima di scoprire cosa è successo, vogliamo ricordarti di premere il pulsante iscriviti e di condividere il tuo supporto con un mi piace. La tua partecipazione è preziosa e ci aiuta a continuare a fornire contenuti di qualità. Ti ringraziamo di cuore per il tuo sostegno. A sei anni dalla scomparsa del compianto Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan sembra aver ritrovato l'amore accanto a un uomo misterioso. La storia d'amore tra Carlotta Mantovan e Fabrizio Frizzi poteva sembrare una favola. I due si sono conosciuti dietro le quinte di Miss Italia nel 2001, quando lei era un aspirante concorrente classificatasi seconda e lui il conduttore del format. Nel 2018, il dramma che ha sconvolto tutti, la morte di Fabrizio a causa di un'emorragia cerebrale. Da quel momento, Carlotta ha preferito abbandonare l'Italia, rifugiandosi in Francia lontana da occhi indiscreti. Tuttavia, il suo recente ritorno ha confermato che la donna ha finalmente ritrovato l'amore. Gli scatti pubblicati su un settimanale hanno ritratto la donna in compagnia della figlia e del nuovo compagno, di cui non è nota l'identità. Si sa solo che è un famoso imprenditore francese che Carlotta ha conosciuto durante gli anni di permanenza in una piccola cittadina della Francia del Nord. Le foto ritraggono anche la figlia di Carlotta, Stella, ridere e scherzare con il nuovo compagno. Ti ringraziamo per averci seguito. Ti invitiamo a lasciare un commento per farci sapere la tua opinione e ricorda di iscriverti al canale attivando le notifiche con la campanellina, per non perdere tutti i prossimi aggiornamenti. Grazie per aver guardato questo video. A presto con un nuovo contenuto.